Italia è divisa in due anche nella speciale graduatoria stilata dal rapporto di lega ambiente sulle migliori città per emissioni zero ed accessibilità. Tutte le città del nord ai primi posti, quelle del sud nella cosiddetta parte destra della classifica. E nella nostra regione? Intanto partiamo con il dire che, ad esempio, l'Abruzzo è terz'ultimo, avanti solo a Molise e Basilicata, per numero di centraline a ricarica veloce e quint'ultimo per numero di centraline a ricarica lenta, anche se rispetto al 2018 le infrastrutture di ricarica sono quasi raddoppiate. Sulla mobilità sostenibile, invece, tra i parametri scelti, l'accessibilità, trasporto pubblico, car sharing e utilizzo bici, zero emissioni legate alla natura degli spostamenti elettrici, in bici o a piedi e alla presenza di politiche urbane di mobilità sostenibile. Al primo posto, sembra assurdo, c'è Milano. Per trovare invece la prima città abruzzese bisogna scendere al 55esimo posto, dove troviamo Pescara. Segue, non proprio in ruota, Chieti all'ottantatresimo posto, anche se, come ha fatto notare il presidente di Lega Ambiente, Abruzzo Di Marco, i provvedimenti messi in campo sono incoraggianti, ma non sono stati puntualmente comunicati per una valutazione complessiva. L'Aquila all'ottantanovesimo posto, anche per i disagi, che il capologo di Regione continua a patire a distanza di dieci anni dal sisma, e Teramo sest'ultima tra i 104 capoluoghi di provincia, in netto ritardo sia nell'individuazione di risorse che di provvedimenti specifici sul tema. Contestualmente al rapporto, Lega Ambiente ha anche firmato questa mattina un protocollo di intesa con il polo regionale in oltre e l'ITS e mobilità sostenibile. È un protocollo che è un punto di partenza costruttivo perché mette in campo sia un'azione di educazione e formazione verso i temi ambientali e dell'educazione ambientale, quindi partendo dalle scuole, quindi è importante il ruolo dell'ITS sulla mobilità sostenibile, ma anche su progetti concreti e sulla strutturazione di quegli abiti intermodalità che sono ancora carenti sul nostro territorio. Da qui l'importanza della presenza del polo regionale in oltre, che è il polo per la registrica e i trasporti, che ovviamente ha il know-how e anche le conoscenze e gli studi giusti per poter mettere in campo queste esperienze innovative, perché il futuro passa attraverso la mobilità elettrica e passa attraverso quella sfida ad abbattere le emissioni climaalteranti e anche quelle inquinanti.